Gianni Custe, direzziario, è armato di rete, di fuscina, che è il tridente, è un puggio, la manica si chiama Galeus e lo protegge sul collo, è privo di schiniere e di elmo, uno dei suoi avversari a partire dal secondo secolo dopo Cristo è lo scissor Maximus, lo scissor amata tipica dei catafratti orientali, il Malleus, questa mezzaluna affilata e dall'altra parte un puggio o un gladio, la Galea è tipica invece di un altro gladio, il secutor che vedremo dopo, tant'è che lo scissor a velas, lo scalatore, è un secutor di secondo terzo secolo dopo Cristo, Magister? Volare, ave imparato, parati! Magister? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da una parte grande, amico risparcato, è l'edizione di morte, il suo corpo fu trovato nella palestra a Pompei, morì durante l'erunzione appunto del veturio. Prossimo combattimento...